Lui è nato lì e da lì però è iniziata anche la sua grande avventura. Lui sembrava una cosa un po' considerata vendere una casa per comprare un'automobile però col senno di poi aveva ragione lui. Quindi il successo della Ferrari di oggi è partito da lì ed è bello raccontare questa storia di un uomo che ha avuto grande coraggio nella sua vita di imprenditore. Credo che per la città di Modena sia molto bello. Quindi descrive anche la persona che era una persona del 1800, lui diceva perché è nato nel 1898 però che guardava sempre al futuro. Per Modena la partenza di un progetto in cui la forza dell'ingegno modenese viene messa a disposizione di un mondo, di appassionati, di studiosi, di persone che vedono in questo mito dell'automobile che realizza un perfezionamento tecnico costante un segno di un modo di guardare verso l'avvenire. Questo genere di museo in genere ha un 70% di visitatori che vengono sicuramente dal resto d'Italia ma in particolare dall'estero. Quindi è ovvio che un museo di questo genere che peraltro sta suscitando la curiosità di tutti i media internazionali, dovanni avremo qui l'Independent ma i giornali tedeschi, giapponesi, americani già ne hanno scritto, noi contiamo che rilanci anche tutta l'immagine di Modena con un'opera di architettura moderna che effettivamente già molte città ci invidiano. Quindi pensiamo che sia soltanto l'inizio di un grande lavoro che deve essere ancora fatto, però è un inizio molto incoraggiante.